Ciao e benvenuti! In questo video vedremo come iniziare a usare un pirografo. Useremo un strumento molto buon e alta qualità. Qui c'è la nostra pirografa di metallo. Prima di iniziare devi scrivere quello che ti piace. Puoi anche aiutare a copiare con il pezzo di carbonio o il pezzo di grafite. Prima di iniziare controlliamo la temperatura del tipto su un pezzo di metallo di metallo. E ora andiamo! Prima di iniziare lavoriamo sull'interno. lentamente, lentamente. La pressura della mano sul pirografo deve essere molto lenta. A presto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.